benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste di music oggi abbiamo il piacere di incontrare nesli ciao tutto bene benissimo 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 allora momento importante perché domani venerdì uscirà il tuo il tuo nuovo disco disco nuovo dopo tre anni immagino che sarai carico e sarei pronto per questa uscita raccontami brevemente perché poi ti voglio chiedere delle cose brevemente cosa rappresenta per te questo questo volume 4 il seme cattivo questo mixtape allora questo disco rappresenta il mio ultimo disco in carriera nell'ottica di poi volermi mettere a scrivere per altri e nell'ottica in cui non immagino un futuro neanche tanto vicino in cui si parlerà ancora di cd questo cd rappresenta è una testimonianza una testimonianza un po' come atto coraggioso e rivoluzionario ma come concept album 22 tracce è un po' come se fosse un prodotto di un mondo che sta sparendo ok e quindi ho preferito e fatto questa scelta uno perché adoro scrivere canzoni più che far la gara a chi le canta e alle classifiche a tutto questo mondo qui che è diventato molto piccolo e provinciale e mentre invece la canzone comunque la forma canzone come espressione per me mi lascia mi lascia e mi rende libero e quindi il seme cattivo rappresenta la chiusura di un cerchio bello grande e ho scelto nesliving perché è una formula che mi ha sempre permesso di essere libero nel proprio nel concepire il disco infatti sono quasi 80 minuti di musica in un'epoca in cui tanta roba tanta roba pensabile davvero canzoni da quattro minuti e dieci quindi è un disco ambizioso da quel punto di vista lì cioè non è un disco come adesso accade che vuole compiacere vuole farsi piacere dai fan dalla gente no è un disco che rispecchia molto una mentalità d'artista al quale io ero affascinato da ragazzino e che secondo me dovrebbe essere un po ruolo dell'arte in tempi bui come come questi perché se siamo tutti lì a dire quello che la gente vuol sentirsi dire e comportarci come vogliono che ci comportiamo secondo me non solo non restiamo lì ma andiamo indietro e quindi ho voluto dare un po' sta responsabilità a questo ultimo album di dire ok io non sto qui a vendere un prodotto non sto qui a vendervi un tour una deluxe version perché è già questa la deluxe version non sto vendendo questo sto spostando il discorso su un'altra cosa non su vendere il mio prodotto anche perché se hai un abbonamento craccato su spotify ce l'hai pure gratis ste 22 canzoni quindi sposto l'attenzione non su vendere il prodotto ma su quello che contiene su quello che rappresenta oggi quel prodotto e secondo me rappresenta vuole rappresentare il mio disco una sorta non di di messaggio né di avvertimento ma un led che 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 si illumina e dice guarda che se tu levi tanti pezzi a un racconto probabilmente non è non avrai più nessun racconto e non racconterai più nulla e sta società è un po così oggi su tutto è non solo sulla l'arte su tutto si levano pezzi di racconto del libro della storia perché farà comodo o si fa forse fa comodo che la gente non abbia una memoria storica e o che non abbia memoria delle cose per discernere non lo so però è la prova perché è un'epoca tesa apri la tv non l'accendo più perché secondo me dovrebbero vietarla ammala le persone non d'accordo con te però twitter facebook tutto quello che i so tu apri social e respiri tensione cioè c'è 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 area di rivolta reale ovunque nelle piazze di un sacco di paesi è l'epoca in cui potremmo veramente con tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo raggiungere grandi risultati e siamo fermi a tanto tempo fa non non ci ha reso migliori tutto questo no e secondo me c'è un punto di non ritorno e poi quando c'è so cazzi e secondo me siamo tanto vicini e però non sento nessuno nessuno parlarne cioè diventa tutto a scomparti stagni ma nella globalità e nella lente di ingrandimento sta cosa non si mette e quindi secondo me non sono preoccupato perché sono in una fase zen che chi se ne frega ma è preoccupante sì diciamo che c'è una superficialità galoppante che 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 porta a non vedere le cose non vederle a cancellare diventa abitudine crea abitudine anche nel meccanismo del cervello di di vedere se questo accade nei più giovani che sono quelli che dopo domani saranno l'interlocutore di altri il racconto è finito ma non è finito fra cento anni si preoccupano dei ghiacci che si sciolgono ma facciamo prima noi quindi ecco dimmi 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 se no continui vai no proprio prendendo anche spunto da da questa tua riflessione questa tua giusta riflessione volevo e prendendo spunto da dalle tematiche dalle liriche dai contenuti del disco delle 22 tracce che sono un po come dicevi prima te una chiusura del cerchio una tua introspezione una tua scavare un po nella tua vita e volevo fatti questa una domanda una triplice domanda cioè come adesso da quella porta che c'è dietro di te bussa una persona e compare il il nesli del 1998 ragazzo di 18 anni casa li dici cosa li diresti allora mandi via calcini il culo cosa li diresti guarda era un'ipotesi che non avevo messo nella lista ma adesso che me l'hai consigliata non sarebbe sbagliato perché capirebbe molte più cose allora la prima cosa che gli direi è ironica ma reale e perché anche un grosso problema italiano secondo me ed è quella gli direi trovati un bravissimo commercialista proprio bravo perché tanto anche se te le spiega non capirai un cazzo quindi trovatelo bravo 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 e la seconda che io essendo nato un po un battitore libero sta cosa l'ho imparata a mie spese ahimene il tempo gli direi che il 70 per cento poi del risultato è fatto dalle persone che ti metti intorno che 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 ti aiuteranno che ti consiglieranno che lavoreranno con te e per te quel 70 per cento farà la differenza essendo poi più della metà mentre invece probabilmente quel francesco del 98 sulla porta avrebbe la convinzione che è lui il 70 per cento capito che è anche il motore che mi ha portato poi a voler provare a diventare un cantante no quindi non gli posso fare una colpa perché senza quel 70 se fosse stato mosso solo da quel 30 non avrebbe combinato un cazzo però arriva un certo punto della carriera che devi avere un bravo commercialista e un team cazzo serio perché comunque l'italia è il paese per eccellenza di ruoli di persone che non quella roba lì non l'hanno mai fatta ci si improvvisano e poi fanno dei danni mostruosi e sempre andando avanti su questo su questi ragionamenti ti bussa dall'altra porta invece un personaggio che arriva dal 2040 il te a 60 anni cosa ti direbbe lui secondo te ti direbbe guarda sei un coglione guarda se sono orgoglioso di te non lo so secondo te cosa ti direbbe io penso sempre che mi dice mi prenda a calci in culo veramente perché dice cioè mi hai rovinato la vita allora questo tuo punto di vista con lo stargate in mezzo delle domande è comunque molto affascinante devo dirti la verità che comunque mi mette a fare ragionamenti che da stamattina faccio interviste ma non c'era qua non c'è in questa parte non c'ero mai andato allora io contento che ti ho portato in questi meandri ma è vero perché io sono un po così in realtà mi ci trovo molto in questa cosa che hai detto del tempo perché io sono un caga sotto del tempo dell'invecchiare perché perché ho sovvertito le regole mi spiego io sono un quarantenne single da solo e sono andato via dalla mia città natale non ho coltivato le amicizie di lì la famiglia lontana e io non ho proprio guardato l'altra faccia della medaglia mentre facevo sta cosa non c'è mai stato un momento in cui mi sono immaginato grande eppure voglio dire è l'abbicino è inoppinabile che arriverà avendola sempre rimandata questo disco è anche frutto tanto di questa cosa qua che mi sono accorto che non ho più non sono più un ragazzino ok e questa roba è stata problematica perché non solo non me l'hanno insegnata io non l'ho capita non l'ho imparata non l'ho appresa non ho la cultura del tempo che passa avendo cambiato un po le regole non avendo una famiglia non avendo delle cose che naturalmente ti proteggono poi dal dal tempo che passa è è duro immaginarsi in avanti anzitutto è duro immaginarmi quel sessantenne ma sai la verità sarebbe più sarebbe più curioso il me di adesso di guardar lui come cazzo è cioè lì è troppo bello troppo sarebbe il me di adesso che gli chiederebbe come cazzo come è superato quella roba lì perché se mi apre dalla porta lui ed è lì in carne e ossa in salute vuol dire che ce l'ha fatto in qualche modo in qualche modo ha fatto ok sarei curioso perché mi darebbe dici va bene dai prospettiva ecco ok usciamo da questo stargate ritorniamo al 2023 dai ti chiedo l'ultima cosa del disco poi ti lascio allora disco dentro ci sono dei fit e dei fit secondo me non banali ci sono scelti ad hoc perché c'è shorty c'è zoel che io la conosco benissimo è una grande voce sono tra felice che che l'hai avuta nel tuo disco ti dice che tu la conosca vedi allora c'è jack the smoker c'è manuego c'è vari fit ma ragionati come come è stato l'approccio e la scelta con guarda il disco la direzione artistica la produzione l'ho seguita tutta un po io con l'aiuto di collaboratori e però anche quello il voler qualcuno il contattarlo il contatto è una cosa che ho fatto che ho fatto io quindi la gestione di tutto è stato molto complesso anche se molto molto bello e appassionante allora zoele anami le ho intercettate tramite qualche messaggio su instagram che mi avevano scritto per farmi sentire delle loro cose a me capita spesso e altrettanto spesso ascolto quindi in quel caso l'ho stato colpito ci siamo scritti per un po e poi ho detto guarda quando ci sarà occasione mi piacerebbe coinvolgerti zoel nel suo mondo secondo me davvero brava è un 3.0 canta rappa e scrive a tutto anami in un mondo indie quindi mi piaceva tanto coinvolgerle gli altri nomi che hai fatto perché sono dei colleghi che comunque stimo da sempre artisticamente a livello umano e che secondo me erano perfetti per il racconto di questo album ognuno per il ruolo che ha nel pezzo ognuno ha dato non è un obiettivo anzi è proprio valorizzano molto la loro presenza secondo me valorizza e da credibilità al progetto ok dai va benissimo ti ringrazio della chiacchierata ti ringrazio dei voli pindarici che abbiamo grazie a te del viaggio temporale del viaggio nel tempo riesco dalla macchina del tempo e dai se ci sarà l'occasione ti verrò a vedere live farai qualcosa di live sì allora non è non è in programma ancora non è in programma perché il disco comunque mette tanta carne al fuoco si racconta tanto quindi non è non è una cosa che abbiamo pensato ad oggi vabbè ci ci incroceremo prima del 2040 dai ci sarà prima del che arrivi il sessantenne grazie grazie buona giornata ciao 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 ciao